Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione di approfondimento di Teneri Guri a Sud che conduce insieme al collega Renzo Raffelli. La settimana appena trascorsa è stato un vero calvario per il trasporto pubblico locale. Ci sono state minacce esposte alla procura, proteste, c'è stato veramente cittadini che si sono trovati in strada in attesa dell'autobus che mai arrivava. Da ieri il servizio è tornato alla normalità, così si spera che sia anche per i prossimi giorni. Molti sindaci della nostra provincia hanno ovviamente puntato i piedi contro ATC e contro l'amministrazione provinciale per questi disservizi che hanno sicuramente danneggiato gli studenti ma anche chi si doveva spostare per motivi di lavoro dalla Val di Vara alla città, dalla Riviera, da Sarzana, un po' da tutte le zone della nostra provincia. Dicevamo i sindaci, i sindaci come sapete sono sempre quelli che sono in prima linea e quando uno protesta poi il primo con cui se la prende è il sindaco. E molti sindaci della Val di Vara dopo le proteste degli utenti hanno davvero cercato di indurre ATC a risolvere abbastanza in fretta un problema che si trascinava ormai da mesi. Tra questi sindaci uno dei più battaglieri è stato il sindaco di Sesta Godano, Marco Traversone. Oggi Traversone è qui con noi, lo ringraziamo per averci dedicato un po' del suo tempo, soprattutto per capire cosa è successo, perché questo appalto così tormentato di ATC. Ma è quello che ci siamo chiesti anche noi sindaci, è quattro mesi che avevamo notato che questo appalto non arrivava a termine. Avevamo già visto già mesi scorsi che ci sarebbe stata l'interdizione di un pubblico servizio ed è per quello che in maniera insistente avevamo chiesto un incontro sia con il vertice di ATC sia col presidente della provincia, ma c'è stato dato dopo i svariati settimane, mi ricordo ancora il giorno, era il 17 di ottobre, praticamente a 13 giorni dalla scadenza famosa del passaggio tra SEAL e la nuova ditta Trotta Ricitelli. E c'era stato assicurato che dal primo di novembre il servizio sarebbe spartito tranquillamente, ma noi sinceramente avevamo visto che era impossibile anche perché a 10 giorni dalla scadenza c'erano i 60-70 dipendenti di SEAL, gli autisti, che anche loro hanno vissuto settimane e mesi veramente terribili, senza sapere a cosa andavano incontro. Che avrebbero fatto. Che fino avrebbero fatto. C'è, e questo è ancora tuttora in corso, il passaggio dei mezzi dalla vecchia società alla nuova società, quindi tutte queste cose qui ci avevano fatto capire che il primo di novembre non sarebbe partito il servizio e tant'è che il primo di novembre, nonostante le rassicurazioni dei vertici di ATC e della provincia, non è partito. Noi ci siamo trovati sabato mattina senza servizio e la cosa ancora più grave è che noi sindaci nessuno è stato avvisato né dalla provincia, che oltretutto è l'ente che deve appunto dare il servizio del trasporto pubblico locale, né dai vertici, dall'azienda, dalla nessuna comunicazione ufficiale. Noi quel poco che sappiamo, lo sappiamo per via traverse, parlando o con gli autisti o con l'amico, ecco, perché comunicazioni ufficiali non ce ne sono state. Questo è ancora, penso, ancora più grave perché noi non potevamo nemmeno dire ai nostri cittadini cosa sarebbe successo. Praticamente io mi ritrovavo alla sera a fare il comunicato sul sito Facebook del Comune di Sertavodano dicendo domani forse c'è, forse non c'è. Questo è il livello, veramente è stato una brutta, penso, una brutta immagine. La idea è da chiedere cosa sta succedendo in ATC, sinceramente bisogna dare atto che hanno rinnovato il Parco Mezzi, hanno fatto tante cose buone, però questa disorganizzazione è la cosa di pesa. Guardi, noi ci siamo visti un po' di sindaci la settimana scorsa e siamo arrivati alla conclusione proprio per capire certe cose che faremo un esposto. Un esposto sia alla Procura, perché c'è stato veramente un'interessazione di un pubblico servizio, ma lo volevamo fare anche all'ANAC perché queste continue proroghe che da mesi e mesi vengono fatte per poter proseguire il servizio. Non so se sono giustificate dal punto di vista normativo dei lavori pubblici, così come vorremmo fare un risposto anche all'accordo dei conti perché queste proroghe non è che al cittadino, ai comuni non sono costati nulla, sono costati e quindi questi maggiori costi alla fin fine ricadono sui comuni, perché ricordiamo l'ATC è una società pubblica al 100% dove i proprietari sono i comuni e noi durante l'anno paghiamo per i servizi che abbiamo, che però non abbiamo avuto. il dramma è stato poi non tanto sabato ma lunedì con la ripresa delle scuole dove lì veramente, ecco, io veramente avevo dei ragazzi in mezzo alla strada, cioè sembra incredibile ma questo è successo, nonostante avessimo avvertito, diteci cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, cioè bastava dire non c'è il servizio e uno faceva una comunicazione ufficiale e poi com'è successo? Poi i genitori si sono presi i ragazzi e li hanno portati a scuola, questo è successo, penso che sia una cosa gravissima. Sindaco, lei con una buona dosi di sarcasmo quando c'è stata questa caporetto di servizio pubblico, corse soppresse, collegamenti che sono saltati eccetera eccetera, ha chiesto scusa, questo mi ha molto incuriosito, ha chiesto scusa perché ha detto in una dichiarazione ho chiesto le dimissioni soltanto dall'amministratore delegato di ATC e invece devo chiedere scusa perché voglio estendere questa richiesta di dimissioni a tutto il Consiglio dell'amministrazione. Era d'accordo con gli altri sindaci e che reazioni ha avuto dopo questa sortita? No ma guardi, questa è stata una reazione dopo che ho ascoltato sabato pomeriggio su Facebook, in diretta Facebook, il Presidente della provincia Peracchini, adesso non vai che voglio fare polemica, ma sabato pomeriggio dopo che noi il servizio era appena andato deserto, con tutti i disservizi che ci siamo detti, sentirsi dire dal Presidente della provincia che il servizio stava funzionando benissimo, ecco è la cosa che proprio ti vengono quei due minuti E questa è una ragione che ha innescatto la sua... Che ha innescatto la mia cosa, perché è vero che il servizio a Spezia non ha avuto ripercussioni, ma tutta la questione riguarda il 30% del servizio che ATC dà in subappalto prima se adesso a Trotta di Citelli. Questo 30% in realtà, il 90% di questo 30% è tutto in Val di Vara. Quindi se il servizio non funziona, se questo subappalto non funziona, non è che la cosa si ripercuote su Spezia, ma diciamo principalmente in Val di Vara, ma anche in Val di Magro. Però le ripeto, il 90% delle corse di questo subappalto sono in Val di Vara. Quindi sentirsi dire che a Spezia ci sono le corrieri che stanno viaggiando, ci credo, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Ed è lì che allora ho avuto come reazione, mi sono scusato aver chiesto soltanto all'ATC, che sicuramente è la prima azienda che ha colpe, ma la provincia, vedendo come stavano andando le cose, cioè che non stavano andando bene, avrebbe dovuto intervenire e cercare di capire come, cercare di tutelare gli utenti. Ma nel frattempo sono migliorate le cose? Si sono assestate? Adesso i collegamenti sono stati ripristinati o ancora dobbiamo aspettare dei giorni perché la Val di Vara ritorna alla normalità? Allora, il servizio adesso, come dicevo prima, i dipendenti di SEA, gli autisti, quasi tutti, non tutti, una buona parte, si parla di una quarantina, perché ripeto, di comunicazioni ufficiali non ne abbiamo, ok? Quindi però sappiamo che una quarantina di dipendenti della SEA sono passati alla nuova azienda Trotta di Citelli e quindi il servizio oggi è partito, in questi giorni, ieri e oggi ha funzionato correttamente. C'è ancora in ballo la partita del passaggio di proprietà dei mezzi dalla SEA a ATC. Ora in questo momento il servizio viene fatto con dei mezzi che Trotta di Citelli ha fatto arrivare direttamente da Roma, così ci dicono, quindi non è detto che il servizio nei prossimi giorni non possa avere ancora, diciamo, dei disguidi, ecco. Speriamo di no, sinceramente. Comunque partirà comunque l'esposto in procura. Sì, 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 questo sicuramente abbiamo fatto, come dicevo prima, un incontro tra sindaci e proprio per capire cosa è successo, perché noi veramente non sappiamo cosa sia successo. Cioè, è una cosa gravissima, perché interrompe, perché poi sembra, ma nell'entroterra, il fatto di piccole frazioni, poi persone fragili, stiamo parlando soprattutto di anziani che si spostano per venire a far la compere, per venire dal medico di famiglia. Cioè, ci sono degli anziani che sono rimasti 4-5 giorni fermi nelle frazioni. Poi, chi aveva la fortuna che c'è l'amico e c'è il parente che lo va a portare a sesta, bene, ma altrimenti il servizio pubblico è essenziale, soprattutto per le persone più indifese come gli anziani, per non parlare poi degli studenti, ma gli studenti, quei genitori in qualche maniera siamo riusciti, è più grave, ma siamo riusciti per un giorno a superire la problematica. Ecco, senta Sindaco, questo è il disagio dovuto all'appalto del trasporto pubblico, però i collegamenti sono la nota dolente un po' della Valdivara. La Valdivara viene citata da tutti come un gioiello da scoprire anche ai fini turistici, però poi quando andiamo al dunque i collegamenti sono sempre gli stessi, perché è una vecchia strada che la 5-6-6 mi pare che arriva fino a Mese Rigore, però c'è una strada unica, ogni tanto qualche frana, i ponti ogni tanto quando c'è la pina vengono chiusi, lì si trova, cioè il discorso dei collegamenti è essenziale se si vuole andare a uno sviluppo turistico per la Valata. Io mi ricordo l'intervista che feci qua da voi, esattamente 5-6 anni fa, ora non ricordo, di preciso e 5-6 anni fa avevamo già parlato di infrastrutture come una delle problematiche principali per l'entroterra e per la Valdivara. Passa il tempo, io ormai sono 10 anni che sono sindaco e la problematica è sempre la stessa, non è mai migliorata. Adesso noi siamo anche appesi a un filo, sapete che lì a Borghetto, la frana che è oltretutto su una statale, sull'ANAS, lì è ancora più grave perché le provinciali sappiamo che l'ENT non ha risorse quindi è un po' più difficile, ma l'ANAS, quello che è successo anche lì dell'ANAS è una cosa gravissima, che forse meritava anche lì, forse un esposto anche lì perché una situazione conosciuta anche lì da quasi un anno, non possiamo ridurci a far franare l'unica strada principale che collega la città con l'entroterra, cioè è veramente una cosa incredibile. Ma lei è stato molto duro in quell'occasione della frana sull'Aurelia a Borghetto Vara, anche perché insomma c'è stata la frana durante la piena del Vara che ha scalzato una parte della careggiata, ma erano 10 mesi che c'era il semaforo come di senso unico alternato. Ecco, lei è sindaco, ma non si poteva intervenire prima, si è aspettato l'ulteriore danno che ha causato sicuramente un danno enorme anche in termini finanziari, perché appena c'è stata la seconda frana l'ANAS ha detto l'unerdì comincia nei lavori, perché non sono stati iniziati prima? Ma sempre per le notizie che abbiamo noi sindaci, poche anche questo, nonostante l'unica strada comunicata, la cosa più grave in tutte queste faccende qua è che i sindaci veramente non hanno informazioni dirette con i vari enti preposti e vi dicendo, ma qui la cosa che ho anche come detto pubblicato, la cosa grave è che si è deciso, inizialmente forse anche correttamente, si è deciso di fare la messa in sicurezza di quel tratto lì con una procedura normale e ci stava, finché non c'era un pericolo, ci stava, ma quando tu hai messo, il tuo ente proprietario della strada, hai messo un semaforo, che quindi implicitamente stai dicendo che c'è un pericolo pubblico, lì si doveva e si poteva fare una sommorgenza e deviare l'acqua che scalzava il versante. Come stanno facendo adesso? Come è stato fatto, ma lì poi ci hanno detto che i lavori erano già, hanno fatto l'inizio dei lavori che era previsto nell'appalto, che avendo, come dicevo prima, seguito la procedura normale, ha bisogno del tempo, perché la burocrazia in Italia, quella c'è per tutti, e quindi ci è voluto un danno per ottenere tutte le varie utilizzazioni. Ma ripeto, quando si sono resi conto del pericolo che è stato messo il semaforo, lì si poteva e si doveva fare la sommorgenza, e se si faceva la sommorgenza non eravamo qui con un semaforo con mezza carreggiata scalzata, perché ora è vero che passiamo, in questo momento è aperta, ma non si sa anche lì per quanto, perché mezza carreggiata è andata giù. Ecco, sindaco, sono anni, anzi decenni, che quando parliamo della Valdivara parliamo di una realtà, di un territorio povero, fragile, che però ha una grande potenzialità. Allora, è il polmone verde della Liguria, ha 80% della superficie boschiva, impreziosita dalla Valle del Biologico, ha la possibilità di avere una rete di sentieri veramente molto importanti, molto interessanti, è contigua soprattutto con le Cinque Terre che hanno problemi di flussi turistici. Dico, ma come mai non decolla, non riesce a decolare questa Valdivara, come mai non riesce a intercettare il turismo? Da cosa dipende? Quali sono le cose che voi fate, sindaci, e le cose che non riuscite a fare? Di chi è la colpa? Ma la colpa, intanto il turista del Cinque Terre è un turista diverso della Valdivara e quindi è difficile, ci abbiamo provato a portare il turista del Cinque Terre a portarlo in Valdivara, ma è difficile, perché è un turista veramente diverso. Guardi, io sono contento, in questi dieci anni, diciamo, sul Monte Gottero abbiamo investito quasi due milioni di euro, abbiamo fatto 80 chilometri di sentieri, 50 chilometri di percorsi per la mountain bike, abbiamo inaugurato un paio di anni fa il primo bivacco sull'Alteve dei Monti Liguri, è inserito nel sentiero CAI, il sentiero Italia del CAI. Ma i turisti lo sanno? No, no, ecco, i turisti lo sanno, però capisce che poi, se poi le infrastrutture, ritorniamo da capo, se poi le infrastrutture, se un cittadino per venire in Valdivara deve fare le chicane fra le corsie a senso unico, semafori, strade chiuse, cioè è chiaro che per il turista diventa un problema. Non dimentichiamoci, e questo secondo me troppo ce lo siamo dimenticati troppo presto, ma nel 2020 il Covid veramente ha bloccato, diciamo, un percorso che sinceramente, specialmente sul Monte Gottero, era iniziato. Ora poi ci sono stati due anni, veramente nel 2020 col Covid veramente tutta questa crescita si è bloccata e la ripartenza è stata molto più difficile, è stata molto più difficile perché le stesse associazioni per fare le feste, io ho visto che c'è stato veramente uno o due anni di fermo, da tutti i punti di vista. Soltanto adesso cominciamo a uscire un attimino dal Covid e quello sicuramente è stato un brutto contracolpo per l'entroterra. Ecco, per risolvere anche un po' le questioni della viabilità, si è sempre parlato di utilizzare per la vallata l'autostrada Brugnato-La Spezia, che ha un costo notevolissimo perché credo che sia sui 5 euro, credo che sia il pedaggio più alto, almeno nella nostra zona, ma fuori fuori Liguria. Ecco, come sindaci non siete mai riusciti a spuntare un abbonamento per gli abitanti, uno sconto per gli abitanti, visto che l'Aurelia c'è il semaforo, le altre strade ci sono le frane. Ecco, non riuscite a spuntare qualcosa con la SALT? Adesso si chiama diversamente, ma comunque la SALT. Si chiama diversamente, ci siamo capiti. No, guardi, è una richiesta, permesso che per i lavoratori c'è uno sconto del 20%, quello c'è. Però è stata una battaglia portata avanti dai sindaci che mi hanno preceduto, da noi stessi, ma non si riesce, mi ricordo ai tempi di dieta anche i vari politici, la Paita, il Gianpedrone, ma è un muro di gomma che non si è mai riuscito a penetrare, a portare a casa dei risultati utili per la Valdivara, non si è mai riusciti. Sindaco, lei nel suo comune mi pare che abbia 11-12 frazioni, piccole frazioni, perché sono nuclei di 20-50 abitanti, forse qualcuno arriviamo a 100-150. Ecco, come fa un sindaco a governare un comune con così tante frazioni? Perché poi bisogna raggiungere, bisogna assicurare un po' di servizi. Allora, le frazioni di Sesto Vedano sono più di 11, perché sono 15, poi ci sono, con un po' più piccolo, arriviamo a 18, poi abbiamo i nuclei sparsi, quindi... Gli abitanti quanti sono complessivamente? Complessivamente 1.300, sono 1.300. E diciamo le frazioni, diciamo le più in periferia, sono, ecco, stiamo parlando di 5-10-15 abitanti, poi abbiamo delle frazioni un po' più numerose, che arrivano anche 50 abitanti. È difficile, è difficile, però ecco, in questi anni qua siamo riusciti a riqualificare molti centri storici, quasi tutti, quasi tutti, questo incentiva tantimeno gli abitanti a curare, diciamo, la propria frazione. E devo dire che c'è stato anche un ritorno, ritornando al discorso dei turisti, nel 2014 il comune di Sesto Godanno non aveva nemmeno un appartamento immobiliato uso turistico, ora ce ne sono quasi una centinaio di appartamento. Questo è il sintomo che il turismo c'è, ok, perché poi sentendo i vari proprietari mi dicono che è anche abbastanza redidizio, perché poi uno delle principali problemi che avevamo inizialmente era proprio i proprietari di seconde case, ma le tasse sovane, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, e da lì è nata appunto la possibilità di fare questi appartamenti a modiato uso turistico, che stanno avendo un buon successo, un buon successo. Riqualificare non è facile, però anche lì con i bandi regionali siamo riusciti a, in dieci anni abbiamo recuperato 15 milioni di euro e questo ci ha consentito di fare molte infrastrutture. Però per l'entroterra è una delle prime opere che abbiamo realizzato, anche se il contributo era stato preso dalla precedente amministrazione alla mia, il milione di euro per la riqualificazione della piazza. Un'opera importantissima, così inutamente a tutta la riqualificazione dei centri storici. Però la vita per poter cambiare l'indice demografico che lo spopolamento serve altro, servono delle riforme proprio dal punto di vista economico. Cioè se noi cittadini non gli diamo un vantaggio per abitare lì nell'entroterra, alla lunga e allo spopolamento non lo possiamo fermare. Poi in Liguria il problema è ancora più accentuato perché se pensiamo che Genova negli ultimi anni ha perso 60 mila abitanti, se perde Genova, il capoluogo perde gli abitanti, figuriamoci l'entroterra. Servirebbero delle politiche speciali per l'entroterra. A me fa un po' rabbia perché in tante trasmissioni che vedo nelle varie trasmissioni televisive si parla appunto dell'entroterra, dello sviluppo che deve avere tanti bei discorsi ma di fatto io in dieci anni che sono sindaco ho visto dei gran tagli. Ora sono molto preoccupato perché nell'ultima finanziaria che sta preparando il governo si parla di ulteriori tagli. Ne veniamo già da due anni di tagli. Ora qui si parla di ulteriori tagli ai contributi dal comune, si parla di tagli alle opere finanziate e si parla del blocco dei dipendenti. Vuol dire distruggere veramente le piccole realtà dei comuni dell'entroterra. Significa veramente distruggerle. Se non si cambia politica veramente l'entroterra, ma non parlo dell'entroterra, parlo dell'entroterra a livello nazionale. Come io dico sempre, se tutta l'entroterra a livello nazionale è in crisi, io non penso che sarà colpa dei 5 mila sindaci che governano questi piccoli comuni. Penso che sia un problema strutturale e se non si affronta. Oltretutto esiste, secondo me servirebbe anche poco, perché esiste un elenco di comuni montani e depressi. Se a questo elenco corrispondesse delle agevolazioni fiscali, secondo me questo trend di spopolamento potrebbe anche arrestarsi. Quindi le politiche speciali sarebbero quello secondo lei? Una delle cose, uno degli interventi da fare sarebbero agevolazioni fiscali o altre cose? Che cosa? Quello sarebbe una delle principali, mantenere i servizi, quello è chiaro, ma quello dell'economia, cioè quello del regime fiscale agevolato, sensato, affinché, tra virgolette, un'attività commerciale che può essere il bar di Sesto Godano paga le stesse tasse del bar che ha le 5 terre. C'è qualcosa che non va. Cioè noi il bar di Sesto Godano, a parte i 3-4 mesi d'estate dove sicuramente un po' di turismo c'è e dove c'è il suo guadagno, ok, ma poi ci sono altri 9 mesi. E hanno una funzione sociale anche. E hanno una funzione sociale, ormai sono diventate piccole realtà dove sono importantissime. Quindi passa sicuramente per una riforma fiscale per l'entroterra. Ecco, senta Sindaco, un po' di anni fa si era parlato, mi pare che fosse stato il consigliere Costa a livello regionale, aveva fatto una proposta di legge proprio per andare incontro a questi piccoli negozi dell'entroterra, agevolazione fiscale, addirittura aiuti perché rimanessero aperti. Che fine ha fatto quelle proposte? Ma allora, quel bando lì è un bando, dico sicuramente positivo, ma non risolutivo perché dava dei contributi per aprire. Ma il problema non è tanto. Non è aprire un negozio, quello si può anche fare, magari uno fa un piccolo mutuo, può avere un aiuto dei familiari, cioè aprire si riesce, ma è mantenere durante l'anno. E lì sono le tasse che giornalmente le attività devono pagare. E ripeto, se sono uguali a quelle che sono in città o nelle 5 terre, nei posti di riviera, turistiche, è chiaro che questo non è possibile. Ecco, sullo spopolamento, perché la Valdivara dagli anni 60, fine anni 50-60, lo spopolamento è stato veramente notevole. Io penso che nei quartieri della Chiappa e di Fossi Termici siano almeno 5.000 persone che vengono origini della Valdivara e uno spopolamento è avvenuto negli anni 60. Ecco, le aziende che si sono impiantate, Brugnato e altre cose, tipo lo Shopping, ha portato dei benefici, ha fermato i giovani a restare nel vostro territorio. Cosa ci vorrebbe per fermare i giovani che possano sposarsi e rimanere lì nel vostro territorio? Ma, allora, come diceva, lo Shopping, l'Outlet sicuramente ha avuto un positivo riscontro in termini di posti di lavoro e soltanto con l'Outlet si è visto anche dei giovani che sono tornati. Magari proprio nipoti di persone con origini in Valdivara. Per cambiare il trend servono dei posti di lavoro, non c'è nulla. Adesso a Sesta siamo stati, tra virgolette, anche fortunati perché si è insediata una nuova società che sta dando 30-40 posti di lavoro, quindi numeri importanti. Bisognerebbe, un'altra cosa che dico sempre e ogni tanto nei vari dibattiti anche tra colleghi, dico sempre, ultimamente si parla, c'è il Ministero del Sud e del Meridione. Non chiamiamo, cioè, io dico, facciamo un Ministero delle aree, come dicevo prima, esatto, montane e depresse, perché il problema dello spopolamento esiste e quindi lì parecchi anni fa era stata fatta una legge speciale dove le aziende che si insediavano al Sud avevano delle forti egevolazioni. E vi posso garantire che molte società, sono un libro professionista, uso dei software, la sede principale di queste aziende sono al Sud, proprio per questa legge speciale che aveva dato la possibilità di insediarsi con degli grossi sgravi. Secondo me bisogna continuare su questa strada, ma non soltanto per il Meridione, ma per tutte le aree depresse. Un tempo avevate il vivaio, c'era l'allevamento delle trote, ecco, sono tutte cose, tra l'altro, molto green. Ecco, non sarei più parlato di questi possibili progetti? Sì, no, ci sono stati degli sviluppi. Allora, intanto il vivaio è stato acquistato, diciamo, se è insediata a Sesto Godano, una nuova società, appunto, che ha comprato sia il vivaio sia l'orto botanico, ha cominciato i lavori di pulizia e ha intenzione, appunto, di fare degli, diciamo, abbiamo già avuto dei contatti e quindi ha già spiegato un piano di sviluppo di questi due terreni. Invece, molto importante per quanto riguarda il centro etiologico di chiusa, in questi anni quali l'abbiamo riattivato, ma per poterlo riattivare sapete che la proprietà della regione era gestita dalla provincia, poi la provincia sappiamo tutti com'è andata e quindi il centro etiologico di chiusa è rimasto chiuso per vent'anni. Dopo il pensionamento dell'ultimo dipendente era stato chiuso. Per poterlo riattivare, praticamente, ho dovuto fare una convenzione con Regione Ligura, l'abbiamo preso noi, diciamo, in carico e adesso l'abbiamo riaperto. L'abbiamo riaperto anche grazie a una convenzione fatta col Parco Monte Marcello Magravara, in cui, grazie a un contributo che avevo preso io ai tempi in cui ero vicepresidente del Parco Monte Marcello Magravara, avevamo preso un contributo per un progetto live, proprio per la valorizzazione della trotta autoctona, la nostra trotta autoctona. E' aperto da alcuni anni, l'abbiamo aperto e stiamo già, quest'anno, riusciremo a realizzare tipo 2 milioni di avanotti. Sì, sono numeri molto importanti. Siamo partiti con piccoli numeri, adesso sono numeri importanti. E sempre sulla linea, diciamo, della pesca dovremmo, spero, a breve, aprire una, diciamo, una riserva turistica lì, nel fiume Gottero, adiacente al paese di Sesto Gottero. Sono due o tre chilometri di fiume destinato alla riserva turistica di pesca. Per farvi, per farvi, per dirvi come la burocrazia, ci ho messo 6-7 anni per poter istituire prima riserva, esatto. Perché l'ite è stato molto lungo, perché prima abbiamo dovuto cambiare la carta itica provinciale, dopo di che abbiamo dovuto fare la richiesta in regione, dopo di abbiamo dovuto chiedere la convinzione con la regione, vabbè. Per fare una riserva 5 anni. No, di più, di più. C'è stato il Covid che ha bloccato. Ecco, per dirvi il Covid, noi, diciamo, il decreto con cui regione dava al comune la gestione di questa riserva turistica era prevista per, diciamo, primavera 2020. Poi nel 2020 c'è stato il Covid, c'è stato bloccato. La questa delibera è arrivata a dicembre 2023. Quindi un blocco di praticamente tre anni. Ora, finalmente abbiamo la riserva, dovremo aprirla, anche con l'intervento dell'ASD pescatore del Magro del Vara, dovremo aprire questa riserva turistica, che dovrebbe anche allungare il periodo turistico. Quindi, diciamo, sono due aspetti che per fortuna dopo un po' di anni si sono sbloccati. Traversone, lei è sindaco, ce l'ha detto, di una comunità di 1300 abitanti, dove tutti si conoscono, dove le decisioni dell'amministrazione hanno un impatto immediato in tempi rapidi sui cittadini. Eppure uno su due va a votare e gli altri non vanno a votare. La percentuale è il 53% a sesta votare. Eccomo lo spiega, perché si capisce in grande realtà, ma in una piccola comunità come questa, appunto, dove tutti si conoscono, tutti si parlano, eccetera, eccetera, com'è possibile che soltanto la metà dei cittadini vadano a votare? Allora, in realtà, Sesto Vodano, sia per le comunali, ma sia anche per le regionali, dove, in quanto candidato, essendo candidato, la percentuale di votanti è molto più alta, perché per le comunali stiamo parlando dell'80%, per le regionali stiamo parlando qualcosetta di meno. 53% mi pare, però lì è un dato non veritiero, perché Sesto Vodano già, diciamo, nell'elenco degli elettori, c'è anche quelli dell'estero, e quindi sono un po' sfalzati. In realtà, diciamo, elettori veri, quindi residenti a Sesto Vodano stiamo parlando di 1.100, quindi hanno votato 5-700. Ma, ripeto, per le regionali il dato è un po' falsato, perché ero candidato personalmente, quindi è chiaro che abbiamo trascinato, altrimenti anche i comuni piccolini, diciamo, il dato dell'affluenza è quello che diceva lei, quindi il 50%. Perché? Perché ormai le persone vedono sempre più distante la politica, la frase, tanto non serve a nulla, è una frase... O tanto sono tutti uguali. O tanto sono tutti uguali. Io, tra l'altro, in questa campagna elettorale che ho fatto per le regionali, ho girato tutta la provincia e purtroppo, devo dire che questa frase qua la senti dire più da volte. Poi uno spiega, ma non andare a votare non è che risolva la questione, anzi, la peggiora, perché mettiamo il potere... C'è chi sceglie per te poi. Esatto, c'è chi sceglie per te e ci sono poche persone che comandano il tutto e purtroppo no, non si riesce a far capire questo semplice concetto. Come spiega la sconfitta del centro-sinistra? Alla vigilia si dava per scontata la vittoria di Orlando, c'era la situazione di Totti, aveva patteggiato per corruzione la sua pena, quindi tutti davano veramente per scontata la vittoria di Orlando e invece ha perso. Lei se l'aspettava e come spiega questa sconfitta? Sinceramente non me l'aspettavo, ma al di là del centro-destra e del centro-sinistra, come si suol dire, a volte il cambiamento, e ripeto, al di là del centro-destra e centro-sinistra, a volte il cambiamento e dicono che è sempre salutare, ogni tanto. Questa volta qui sinceramente il cambiamento era anche auspicabile dal mio punto di vista, però facendo la campagna elettorale, parlando un po' con le persone, mi sembra che molte per partito preso votano o centro-destra o centro-sinistra, poi alla fine le persone che cambiano idea non sono così tante come io credessi, perché anche io davo per scontato una vittoria del centro-sinistra, ma per quello che è successo senza altro, perché è chiaro che la vicenda giudiziaria del Presidente Totti è una questione abbastanza, direi grave, non abbastanza, molto grave. Però, soprattutto anche per i servizi, soprattutto anche nell'entroterra, la sanità, dopo nove anni di governo non è partito un ospedale, hai 250 milioni di debiti di buco nella sanità, liste d'attesa, c'erano tutte le condizioni per dire alle persone sì, questa volta cambiamo, vediamo se altre persone possono far meglio delle precedenti. Sinceramente è un mistero. Un piccolo territorio come Cesta Godana, com'è la sanità? Avete servizi di prossimità? Avete un medico di famiglia o non c'è? La gente deve muoversi? Perché diceva appunto che il problema dei collegamenti e il trasporto pubblico hanno penalizzato quelli che avevano necessità proprio di andare anche a farsi curare. Guardi, nella mia campagna zonale uno dei punti principali era proprio la sanità, medico di famiglia e Alisa. Guardi, Alisa mi ha fatto piacere leggere nel programma di Andrea Orlando l'eliminazione di Alisa perché io come comune, come sindaco abbiamo avuto a che fare con Alisa, le posso garantire, che è veramente una bruttissima esperienza. Considerato un carrozzone di puntone. Un carrozzone, ma oltretutto burocraticamente per fare una pratica. Noi abbiamo aperto l'asilo nido e per le autorizzazioni per l'apertura che prima si facevano con l'Ase e richiedevano forse una settimana, ci abbiamo messo penso due o tre mesi. Poi di passaggi inutili, ma veramente per riderci. Adesso ci rido ma quando doveva aprire l'asilo nido non ridevo tanto. Ma per dire adesso, per fare il sopraluogo dell'asilo 5, quindi un funzionario dell'asilo qui, ho dovuto fare la richiesta al Dalisa, a Genova, il quale ha mandato la lettera all'ufficio qui di Spezia, il quale rispondeva Dalisa e il quale rispondeva a me. Ecco, questo, quando si parla di burocrazia e vedete queste cose qui veramente ti passa passa la voglia, ecco, è una cosa. Comunque per quanto riguarda invece il medico di famiglia, come sapete ormai il medico di famiglia è un problema. È via distinzione. È via distinzione. Guardi, io il problema del medico di famiglia è una domanda che avevo fatto all'assessore della Sanità Grattarola, mi siamo due anni fa in un'assemblea dei sindaci, dove già si vedeva che i medici di famiglia andavano in pensione, non li erano sostituiti, il problema c'era già. E gli avevo fatto la domanda, quindi già due anni fa, in tempi non sospetti, come pensassi di risolvere questo problema. E la risposta è stata quella che sta succedendo adesso, ossia che sarebbe stato realizzato un ufficio dove si mette lì un medico di famiglia a disposizione dei cittadini. Ecco, questo è il modo di dare delle risposte. Ora, ed è quello che è successo adesso, oltretutto, l'area carente, mentre prima si poteva dichiarare l'area carente, cioè quando un medico di famiglia va in pensione, bisogna dichiarare l'area carente per dare la possibilità all'ASL di fare il bando di concorso. Prima era 500, con 500, diciamo, se il comune aveva 500 abitanti si poteva dichiarare carente. Ora è passata mille, tant'è che in Val di Vara già il comune di Carlo e il comune di Zignargo hanno perso il medico di famiglia e non c'è. Voi ce l'avete invece? Noi ce l'abbiamo, per fortuna, ma so che... Tenetevelo caro. Teniamo caro. Cioè, purtroppo anche il nostro medico di famiglia a breve andrà in pensione. Sono già preoccupato perché, come vedete, a Bolano... C'è già uno qui. C'è già, c'è. Ci sono... ha fatto il bando, non è stato... L'ambulatorio. Esatto, non è stato sostituito. Quindi cosa hanno fatto? La risposta qual è stata? Ma è una risposta che poi non è una risposta vera al cittadino. Ossia è stato quello di aumentare i pazienti per un singolo medico di famiglia. Da 1500 l'hanno portato a 1800. Ma capite che in un territorio come la Val di Vara, dove un medico di famiglia ha già 1500 pazienti, portarle a 1800. Ma io mi ricordo il mio medico di famiglia di quando ero bambino, quando lo chiamavo e veniva in casa. Ora il medico di famiglia, ma se lo chiami, ma non è che non vuole venire a casa. Non ce la fa, non ce la fa proprio materialmente. Anche perché... Un capo di compiti burocratici, tra l'altro. Anche perché le pratiche... esatto, gli compiti burocratici che sono costretti, costretti, che devono fare, veramente sono enormi. E quindi aumentare da una parte il numero di pazienti e dall'altra mettere per quelli che rimangono senza, mettere un ufficio. Ma non è questa la risposta. Anche perché io mi immagino già come sarà fra 5-10 anni. Metteremo questo ufficio, lo metteremo in una zona centrale della Valle di Vara, dove il cittadino dovrà arrecarsi con i trasporti che non funzionano. Ecco, questo è... E poi ci chiediamo perché c'è lo spopolamento... Apparecchiature diagnostiche che ci sono in questo ufficio o non c'è niente? Non ho capito. Apparecchiature diagnostiche, non so, tacca, radiografia, queste cose qua. Si possono fare accertamenti di questo tipo? Nell'ufficio di Sesta Godano? No, 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 questo è un medico di famiglia, no. Noi tra l'altro invece stiamo portando avanti un progetto, questo qui grazie ai contributi PNRR con Asle, per cercare di dotare il nostro ambulatorio di macchinari per la telemedicina. Questo è un progetto che stiamo portando avanti. A Sesta Godano è partito anche l'infermire di comunità, è un servizio che abbiamo da 4-5 mesi, da un po' di mesi, è un servizio che devo dire che funziona. Ripeto, adesso questo ufficio vorremmo dotare appunto di questi macchinari per evitare che un cittadino debba arrecarsi per forza in città. Però, ripeto, sono tutte cose che in qualche maniera danno delle piccole agevolazioni, ma il medico di famiglia è il medico di famiglia. Cioè pensare di mettere una persona che non conosce minimamente qual è la storia di un paziente, ma non è una risposta. È un modo, mi spiace dirlo, ma per risparmiare e non si può risparmiare sulla salute dei cittadini. Sindaco, durante la campagna elettorale si è parlato anche della diga che è spenta, quella diga di Vizzà, che sarebbe vicino a Cadivara. Perché non funziona? Allora, intanto precisiamo che non si tratta di una diga, ma di uno sbarramento, perché l'invaso attualmente contiene 40.000 m3 d'acqua e anche pulendola, diciamo, si potrebbe arrivare a 120.000 m3. Quindi, diciamo, l'energia elettrica che si produce in questo sbarramento dipende non dalla quantità d'acqua che contiene, ma dall'acqua che arriva a monte. E diciamo che il tempo non è che aiuta, perché o ci sono forti precipitazioni o non ci sono precipitazioni. E questo non aiuta, certo, diciamo, la possibilità di fare energia elettrica. Tanto più che poi la Treno Power, che è la società che sta gestendo la centrale, è soggetta ai costi giornalieri e quindi viene messa in funzione solamente quando crea utilità. Ecco, questo è un po' il principale problema. Sindaco, andiamo con le domande impertinenti. Mi raccomando, brevità. Allora, lei è sindaco da dieci anni, questo è l'undicesimo da sindaco. Ci racconti un episodio, un fatto, una cosa spiacevole che ha dovuto vivere in questi dieci anni? Ma forse è spiacevole, il periodo peggiore è quello del Covid, dove veramente lì si viveva alla giornata e, diciamo, l'AS non era proprio sempre presente. Sindaco, qual è l'indenità di un sindaco che amministra una comunità di 1.300 abitanti come Sesta Godano? Sino a qualche anno fa era di 468 euro, me lo ricordo ancora. Dopodiché, quando avevamo fatto la lancia, ha fatto la battaglia dicendo che prendevamo meno che il reddito di cittadinanza, ora è stata fatta la nuova normativa e attualmente per i piccoli comuni siamo a 1.400 euro. Ma quando ha deciso di ricandidarsi, l'ha fatto per due volte, nessuno in famiglia gli ha detto, ma chi te lo fa fare? Sicuramente sì, sicuramente, però non è nemmeno facile trovare dei sostituti adeguati, diciamo così. Il consumo di suolo pubblico per un ingegnere ed edile rappresenta un problema di sostenibilità ambientale o una limitazione alla propria attività professionale? Ma dipende, non si può dare una risposta così chiara, dipende dalle situazioni. Tenete presente che durante l'alluvio del 2011, una delle cause, diciamo che era la cementificazione che era successa in Val di Vara. Non c'è mai che in Val di Vara chi conoscano, la cementificazione non ce n'è mai stata. Il centro-sinistra sostiene che aver abolito l'abuso d'ufficio come reato è stato un errore, lo pensa anche lei? Dipende, anche lì non si può sempre fare di un errore o un fascio, dipende dalle situazioni, dipende. Ok, sindaco la ringraziamo tanto di questa chiacchierata che abbiamo fatto, molto utile e vi auguriamo buon lavoro. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito anche questa sera. Io e Riccardo Sotanese vi aspettiamo anche la prossima settimana con un nuovo ospite. Buona serata a tutti. Buonasera. 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 Grazie a tutti.